New York Times su Ellie Schlein. La donna che scuote la politica italiana. Da Ascolta la Notizia, è difficile incarnare il cambiamento in Italia più di Ellie Schlein. La donna che scuote la politica italiana, no, non il nuovo presidente del Consiglio. Figlia di genitori italiani ed ebrei americani, Ellie Schlein vuole rilanciare l'opposizione di centrosinistra a Giorgia Meloni, se solo il suo partito riuscirà a sopravvivere. Così il New York Times nel «Ritratto del sabato», dedicato alla neosegretaria del PD, Ellie Schlein. Lo scorso fine settimana la signora Schlein, 37 anni, si è fatta strada al centro del dibattito sul futuro della sinistra europea quando ha svalordito l'establishment liberale e scosso il panorama politico italiano vincendo le elezioni primarie per diventare la prima donna alla guida del Partito Democratico di centrosinistra. Promette, ha detto mercoledì nella sua nuova sede centrale, di «cambiare profondamente, un partito nel bel mezzo di una crisi di identità», scrive il quotidiano americano.